Ben trovati con A Tu per Tu in questa puntata, siamo alla poltrona con Claudio Cia di Civica Trentina, ci ringraziamo, buongiorno, benvenuto, tanti argomenti Cia, sicuramente il dibattito si sta accendendo molto in queste ore attorno a quella che giornalisticamente viene detta la chiusura del confine del Brennero, poi di fatto di chiusura non si parla ma è un intensificare i controlli, un riportare i controlli al confine, l'Austria dice perché l'Europa non sa dare risposte migliori e più efficaci, quindi il temuto collo di bottiglia ci sarà probabilmente, anche di recente l'incontro tra i governatori del Trentino e del Tirolo non ha sortito alcun effetto, lei come la vede? Ma innanzitutto io credo che purtroppo questo è il risultato di un'Europa fondata più sulla moneta che veramente su una visione che coinvolge tutti i popoli europei, Noi in fondo abbiamo sì tolto le frontiere a suo tempo ma in realtà a livello psicologico le frontiere eravamo pronti a inserirle in ogni momento, perché? Perché ogni Stato alla fine ragiona per il suo popolo non guardando all'Europa. Io ricordo che De Gasperi a suo tempo, che fu uno dei padri fondatori del pensiero europeo, aveva anche proposto di fare una forza militare unica europea, perché vedeva in questa uno strumento da porre in caso di necessità, come stiamo vivendo in questi mesi, proprio ai confini dell'Europa, non all'interno dell'Europa. Ciò che invece noi osserviamo oggi. Purtroppo questa proposta di De Gasperi fu bocciata proprio dalla Francia, che quindi stoppò questo sviluppo, che secondo me avrebbe sicuramente oggi dato risposte diverse, per coltivare invece sempre quell'ipotesi che in caso di necessità si possa riproporre i confini preesistenti. Purtroppo questo è il prezzo che noi paghiamo di una visione che sicuramente si è limitata solo all'aspetto economico. Quindi noi oggi ci ritroveremo, almeno da aprile, così par di capire, ci ritroveremo con gli immigrati al confine tra Alto Adige e Austria. Certo, che si fa? Certo, Renzi dovrà anche porsi il problema di quale politica assumere nei confronti di questa immigrazione. Noi siamo ben consapevoli che molti di questi fuggono da guerre e da quindi persecuzioni. Però dobbiamo anche porci la domanda, ma l'Italia può accogliere tutta l'Africa, può accogliere tutto il Medio Oriente? Io ho qualche dubbio. Io credo che sicuramente i confini che sono stati ripristinati, in poche parole, non saranno tolti a breve. Anche perché l'immigrazione forzata da eventi bellici e quant'altro non terminerà quest'anno, non terminerà il prossimo anno. E noi sappiamo che sia l'Africa che sia il Medio Oriente sono una polveriera per cui finisce il conflitto da una parte e ricomincia dall'altra. E questo comunque è anche il risultato di politiche strategiche, gestite o comunque controllate e pilotate dall'Occidente, che in qualche modo oggi ci presentano il conto. Attorno a tutto questo, un territorio come il nostro può fare poco o niente, nel senso che questo appartiene a una politica nazionale, una politica estera che ben va al di là di quelle che sono le capacità di un territorio come il nostro. A proposito di territorio come il nostro, che è impegnato a riscrivere per la terza volta le regole del proprio Statuto di Autonomia. Di recente potremmo proprio definirlo un grosso scontro istituzionale che si è consumato a Trento e fra Trento e Roma, nel senso che se qui si stava dando vita a una costituente, una consulta quantomeno per riscrivere le regole, a Roma si è cercato di fare una fuga in avanti. Lei come l'ha vista questo passaggio? Ma sicuramente un'assenza di attenzione al lavoro che si sta cercando di fare proprio sul nostro territorio. Un'assenza anche di rispetto dell'attività del Consiglio Provinciale che giustamente, e ringrazio per questo, il Presidente Dorigatti ha protestato e che comunque dimostra come alla fine il Consiglio Provinciale spesso venga visto più come un accessorio a delle iniziative politiche che vengono fatte da altri. Giustamente Dorigatti ha preso posizione in difesa del Consiglio Provinciale. Certo, noi ci troviamo anche a dover oggi istituire la Commissione che dovrebbe in qualche modo proporre un documento per il Terzo Statuto. La tristezza in tutta questa iniziativa politica è che invece di trovarci a lavorare sia l'Alto Adige che il Trentino per individuare, per formulare un documento che arrivi a formulare appunto lo Statuto, il Terzo Statuto. Noi ci troviamo due soggetti politici, Trento e Bolzano, che presenteranno un documento dopo nella speranza di trovare ovviamente una traduzione, sperando che poi questa sua volta a Roma non venga in qualche modo così cassato come spesso succede. Volevo in chiusura, sì, a farle sentire anche l'opinione di una persona che abbiamo incontrato per strada alla quale abbiamo chiesto un po' che cosa ne pensa della politica in generale. Buonasera, posso fare una domanda per Trentino TV? Sui partiti politici si fida ancora? Assolutamente no. Perché? Perché fanno tutti quello che vogliono loro senza sentire la gente, senza sentire il popolo. A votare ci va ancora? Sì, vado. E come si fa l'idea politica? Guarda la televisione, legge i giornali? Leggo i giornali. E ai partiti c'è un alternativo oppure no? Sono il male minore? Direi che sono alternative. Sì, alternative non ce ne sono. Molte, finora. Finora alternative non ne vedo. I partiti ci sono e ce li teniamo. I partiti ce li teniamo, insomma. Non è una lettura proprio felice. Sì, i partiti ce li teniamo, ma più che i partiti in quanto concetto è che spesso noi ci ritroviamo a doverci tenere le stesse persone che rappresentano i partiti. La delusione della politica non è data dal concetto di partito. Perché la politica in sé è la più alta forma di carità, diceva Giovanni Paolo II. Certo, sono gli uomini che possono sporcare la politica. E se oggi noi sentiamo commenti di questo tipo, e spesso ben fondati, è perché noi ci troviamo ad avere delle persone che la politica la usano per fare i propri affaracci, per coltivare i propri interessi, se non i propri, quelli magari del gruppo che evidentemente garantisse poi un ritorno elettorale. Ecco, io credo che il politico, come diceva giustamente il Signore, deve tornare ad ascoltare le persone. Perché se noi non ascoltiamo le persone, e non solo durante la campagna elettorale, ma i cinque anni che ci troviamo a rappresentarle nel Consiglio provinciale, se noi non torniamo ad ascoltare le persone, noi non possiamo rappresentare i bisogni delle persone, ma rappresentiamo solo noi stessi. Ringraziamo Claudio Cia di Civica Trentina per essere stato con noi in questa puntata di Tu per Tu. Grazie, buon lavoro. Grazie. E a voi tutti l'appuntamento la settimana prossima. Grazie. 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 Grazie a tutti.